La famosa conduttrice milanese ha stupito tutti con una serata indimenticabile nella sua lussuosa villa sulle colline piemontesi, respolverando l'abito da sposa del 1999. È stato emozionante indossare di nuovo quell'abito, soprattutto perché le mie amiche erano con me, proprio come 25 anni fa, ha rivelato su Instagram. La serata ha visto protagonisti non solo Benedetta e Fabio, ma anche i loro tre figli, Matilde, di 22 anni, Eleonora, di 20, e il giovane Diego, che ha appena compiuto 15 anni. La coppia, sposatasi l'11 luglio 1999, ha finalmente celebrato il loro anniversario, posticipato per ragioni non rivelate. La festa è stata un vero e proprio evento, con tutti i rituali tradizionali, dal taglio della torta al lancio del bouquet. Ma il vero divertimento è iniziato dopo, con una spaghettata, il gelato della rinomata gelateria Lungorba e un tuffo in piscina. La parodia ha incantato tutti con la sua energia, scegliendo di ballare sfrenatamente sulle note di Beyoncé insieme ai suoi figli, piuttosto che seguire la classica marcia nuziale. Insomma, una serata di puro divertimento e emozioni, che ha dimostrato come la conduttrice sappia sempre come trasformare ogni occasione in un evento speciale.